Vorrei presentarvi Drawkid. Allora, Drawkid è una start-up che nasce per risolvere un problema reale. Praticamente io e i miei gruppi di unici non siamo mai riusciti ad organizzare un viaggio di gruppo e ultimamente anche lui che fuori porta è diventata una missione impossibile. Evidentemente quindi esistono dei problemi che sono molto disfusi in tutti i gruppi. Il primo problema è che non si sa mai cosa fare. È difficilissimo mentre tutti ti accordano, soprattutto quando il gruppo è abbastanza numeroso. È difficilissimo gestire i contatti perché magari vedo un bellissimo evento come uno start-up weekend e poi devo cambiare, devo andare su diverse piattaforme per poter avvisare i miei amici. Magari uno lo trovo su Facebook, un altro lo devo trovare su WhatsApp e così via. Andando sui maggiori siti di Google, vediamo soltanto una vetrina di offerte che in realtà non mi servono a nulla perché non trovo offerte che vada su ognuno. E poi c'è una grandissima perdita di tempo che porta in un mondo arrivato nella maggior parte dei casi. Noi abbiamo una soluzione. Noi vi offriamo la soluzione migliore per quello che state cercando. Vi offriamo la possibilità di acquistare offerte su misura secondo i vostri interessi e in base al numero dei componenti del gruppo. Tutto questo lo facciamo in un'unica piattaforma dove possiamo unire l'organizzazione e l'acquisto in un unico momento. Vogliamo offrire inoltre uno strumento di pagamento condiviso come avviene naturalmente quando abbiamo con 5 amici in pizzeria in cui si paga la domanda. Noi vogliamo replicare queste dinamiche online in modo tale che non ci sia più l'unica persona che si fa carico di tutto il conto ma ognuno può veramente pagare la propria cuota. Il nostro business model traiamo guadagno dalle commissioni sulle transazioni d'acquisto più un sistema di attualità sia interattivo che il gruppo in cui il gruppo è protagonista. Dimensioni del mercato degli company che sono abbastanza grandi parliamo di milioni di utenti e una costante crescita delle commissioni online. Ne abbiamo tantissimi competitor sia per quanto riguarda i social che per quanto riguarda lo store. il nostro obiettivo è quello di unire due differenti modi in modo da creare un'esperienza unica e siamo gli unici che proviamo a unire il lato dell'organizzazione e il lato dell'acquisto in un'unica piattaforma. Abbiamo diversi vantaggi abbiamo prezzi più bassi con un avanzato di sistemi di offerte ad ogni per i gruppi noi aumentiamo le fidelizzazioni dei clienti per quanto riguarda gli esercenti e c'è un avanzato sistema di reputazione online in cui si evitano i falsi feedback. La roadmap è questa, partiamo da oggi e finiamo di scendere con una beta pubblica. cerchiamo di scelto Kappa ma ne andiamo bene anche di meno e sono divise tra i keys e i smarts che mi cerce. Nostro team è questo, con i tre, io mi occupo di business e i contenuti e loro sono due per prendere. Grazie a tutti. Grazie.